Allora ragazzi ho appena finito di fare una live perché è andata veramente a farsi benedire questa live Faceva veramente schifo perché col mio pc non riesco a fare una live eccellente Non ci riesco proprio Quindi per scusarmi domani Domani facciamo una bella live Alle 5 Dalle 5 alle non so quando Fatevi trovare sul mio canale mi raccomando tutti quanti sintonizzati Perché faremo una bella live coi controcoglioni Ciao ragazzi